RENATA! 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 Chi penso io, comandante? RENATA! Hanno degli scudi! Sei a posto! RETROVIAMOCI! È bloccato! Sono disfondati! Oltimate così! Lo stiamo ferendo! Schiero un blob! RENATA! 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 Siete lì sotto pressione! Ricarico! Il nostro blob è andato! Nave aliena in abrigo! Sto richiamando rinforzi! Sono sbattati gli scudi! Blob schierato! Che cosa è successo? È controllato! Amico in arrivo! Hanno ucciso il nostro blob! Gli scudi sono andati! Colpiamolo ora! Sono notati gli scudi! Ho bisogno di cuore! Ho bisogno di cuore! Ho bisogno di cuore! Ho bisogno di cuore! No! Ho bisogno di cuore! L'uomo che si chiama! Sotto effetto! Attenzione. Oh, grazie. Avevo bisogno. Il polivio. Sono degli scudi. Guardate. Sono a terra. Muoviti. Che ne dici di curarti? Grazie. Avevo bisogno. Avevo bisogno. Rialzati. Mi serve. Medico. Ci siamo quasi. Ho bisogno di cura. C'è radici di curarmi. Medico. Ha bisogno di aiuto. Cosa? 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 Rimettile in piedi. Penso io a lui. Cremata. Va bene. A riparo. Granata. Teneteli sotto pressione. Teneteli sotto pressione. Perfetto. Quasi. Sauviate. Quasi. Guardi! 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 Guardi, comando! Tag! Scrivono! Comandante, sei ferito! Fornisco cuore! Comandante, tutto bene? Il Comandante è nei guai! Mi serve aiuto! Vieni duro! Venite qui! Forza, Comandante! È il minimo che potessi fare, Comandante! Uh! Oh, ti那个! Oh, ti Launcher! Oh! Calvis! ON! Quello era l'ultimo. D'accordo, ci sono. E ora? Devi cercare i generatori primari della struttura. Dovrebbero essere i più avanti. Grazie, agente Weaver. Contatto. Non ci hanno ancora scoperti. Contatto, nemico. Cosa diavolo è? Nemici, saltano! Weaver, i generatori si trovano sotto di noi. Aveva ragione. Hanno collegato delle specie di tubi alle turbine. Dovrebbero essercene tre, più l'interruttore principale. Dovrete spegnerli tutti per disattivare i generatori. Ciò dovrebbe ridurre i livelli di energia e permetterci di infiltrarci. Riccevuto. Un generatore è andato. Bel lavoro. Ne mancano due. Noi, 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 noi. Sono rinforzati! Sono rinforzati! No! Sono a terra! A muoverti! Ti curo subito! Mi serve una mano! Grazie! Rialzati! Lancia un pezzo! Un nemico in arrivo! Arrivato! Aiutatemi, maledizio! Sono aiuto! Aiuto! Contatto! Non lo mantenete pronti! Io vado! Udi amati! Sono aiutati! No! Sono aiutati! No! 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 Attenzione! Sei a posto, o qua? Stai giù! Ah! Eh! Correti, non lo so! Rialzati! No! Ah! 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 È un amato qui! Devo essere spacciato! Cudi sfondati! Colpiamolo! Armaro! Granato! Oh! 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 sformati col diavolo. Fornisco curi. Sono tutti morti. Procediamo. Non ci resta molto tempo, signori. Stai chiamando rinforzi. Contatto, nemico. Stai chiamando degli armi. Gli spunti sono andati. Spostiamolo ora. Stiamo continuando. Si avvicinano. Ordini. Rialzati. Spostiamolo ora. Spostiamolo ora. Forza, teriamo giù quei bastati. Spostiamolo. Siamo a due generatori. Abbiamo appena sentito accendersi le riserve. Spegnete l'ultimo generatore e non basteranno. Spostiamolo ora. Spostiamolo ora. Sanno avanzato. Bruciate quei bastardi Medico Mi rimetterò in aiuto Mi serve aiuto